mi spieghi che cosa sta succedendo perché urli una cosa bruttissima una cosa bruttissima o no che è successo questa notte ho sognato che c'era uno squalo in piscina ah e quindi? e quindi ora ho paura di nuotare secondo me non lo so più fare come si nuota guarda toccola acqua ho paura mi stai prendendo in giro non sai più nuotare? no no non so più nuotare non so più come si fa non voglio nemmeno toccare un centimetro di nata dai scendi per favore ma non è possibile che tu non sappia nuotare Ninna hai 19 anni vabbè ti butto giù dai aspetta lo squalo potrebbe mangiarmi io potrei affogare aspetta un attimo ma quale squalo? lo squalo che c'era in piscina ah ma io ho capito di cosa parli aspettami qui per caso intendi questo squalo aia scusa ho paura Matti ho paura l'acqua l'acqua mi è toccata minna ma questa pinna è finta come te lo devo dire guarda aia è finta non devi avere paura dai scendi in acqua facciamoci una gara di nuoto insieme no 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 non so più nuotare non so più nuotare te lo giuro non so come si fa guarda me lo so oh mamma mia ma tu sapevi nuotare benissimo ti ricordi abbiamo fatto anche una gara sott'acqua e ora non lo so più fare non lo so più fare ecco non so nemmeno perché sono qua su questo ricordo e voglio scendere falsacchiotti abbiamo un problema bene 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 buongiorno ninna io sono il dottore del nuoto non credo esista però vabbè io sono il dottore del nuoto e oggi ti insegnerò a nuotare ok ok ma aspetta non hai paura di stare dentro l'acqua ma no ninna non devi avere paura guarda è facilissimo guarda ninna basta fare così e cominciare a nuotare non ci vuole niente vedi un braccio e poi l'altro un braccio e poi l'altro intanto muovi anche le gambe ed eccoci qui pronti ad arrivare all'arrivo oh mamma mia è stato molto faticoso non è come si facile come sembra matti io non voglio nemmeno toccarla l'acqua ho paura ah signorina quindi lei non vuole toccare neanche l'acqua oh oh e allora devo utilizzare il mio piano b non sono più il dottore del nuoto io sono l'infermiere del nuoto sono uno specialista stai tranquilla ok falsacchiotti ninna ha anche paura di toccare l'acqua io sinceramente non so che cosa fare mi sto inventando tutto allora signorina ninna incominciamo mettendo i piedi dentro l'acqua guarda piano piano così no non urlare no non urlare però mamma mia mi hai stordito scusa allora ti fidi di me? si ok metti prima un piede poco poco guarda tanto siamo nell'acqua di una piscina non ci possono essere gli squali dai ok oh e anche l'altro adesso ok perfetto vedi non c'è nessuno squalo l'ho visto l'ho visto uffa come te lo devo dire siamo in una piscina non siamo nell'oceano c'è una piccola differenza ok ok adesso andiamo avanti mettendo le gambe oh vedi molto molto meglio vedi ti stai incominciando ad abituare bravissima non mi schizzare la faccia scusa perfetto adesso scendiamo di più oh così no 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 oh no devo ripartire da capo ritentiamo magari con le scale meglio un gradino alla volta ok vedi l'acqua è dalla tua parte l'acqua ti vuole bene è bellissimo stare in acqua e state ninna questi sono i video estivi di ninna e matti che fai non ti sei seduta? no scusami ma tu chi sei? ninna e che cosa sei? una falsacchiotta ok e secondo te le falsacchiotte si fanno il bagno in piscina durante i video estivi di ninna e matti oppure no? sii ok allora adesso facciamo un altro scalino dai piano 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 ok perfetto vedi non è stato difficile ho perso anche l'altro orecchio continuiamo a scendere ninna coraggio dai minna cosa stai facendo aiuto che cosa devo fare aiuto non so che cosa fare ho paura cosa stiamo facendo minna fermo allora tu mi devi aiutare ok allora scendiamo insieme ok ok perfetto allora uno ok non avere paura non avere paura aspetta 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 non è che ci mangiano i piragna ho detto che non ci sono i piragna e due ho paura ho paura aspetta resta qui prendo una cosa che sicuramente può aiutarti e che aiuterà anche la mia schiena ok per scendere gli ultimi scalini ecco qui ti darò una banana ok una banana gonfiabile con questa tu scenderai ma non potrai affogare perché è una specie di salvagente va bene? è testata? certo è testata dagli alberi di banane possiamo andare ok ero piano aspetta aspetta però ti serve un po' di supporto mi raccomando falsacchiotti lasciate un bel mi piace se credete che ninna riuscirà a nuotare giusto? giusto adesso utilizza il tuo gonfiabile bananito e scendi il prossimo scalino dai ok brava bravissima vedi ce la stai facendo ma perché soffri così tanto? ah ahm dai 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 vai dai vai vai no 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 nina no nina no e non sapevo di essere anche un baglino sono sfogata sono sfogata customized ma no nina guarda che tu tocchi con le gambe qui eh aiuto eh eh allora il outta mai, abbassa un po' le gambe ok oh ok no nina ma che c'è la miseria? Stavo scherzando ovviamente Dove si nuota? Si nuota con le gambe Nina Te l'ho fatto vedere prima Prima una gamba poi l'altra Ok con le gambe Esatto incomincia a muovere le gambe Ok più dritte però Ok devi fare tanto rumore Con l'acqua vai 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 Bravissima in questo modo Adesso incomincia a muovere un braccio Ok no no un braccio in avanti Devi fare un orologio un orologio col braccio Vai ok no no Non in questo modo devi girare Tutto questo braccio È difficilissimo Adesso sono sicuro che ce la farai Tolgo le braccia e tu incomincia a nuotare Ok vai No ehi Nina Devi nuotare Aspetta 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 Ok ok sei tranquilla Ci sarò io Vediamo se con questa strategia numero 792 funzionerà Allora Nina Ti ho portato questa qui Ok è la pinna dello squalo che ti ho mostrato anche prima Non devi avere paura Toccala 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 col dito Era uno scherzo Era solo uno scherzo Allora questa pinna dello squalo È in realtà un salvagente Guarda se io la lascio galleggia Questo ti permetterà di non affondare Va bene Va bene Ok Adesso sei un piccolo squaletto Va bene Sì ok Sono pronta Adesso incominciamo Azionare le gambe Azionare le braccia Ok Il mio squalo è pronto a partire Ti giro è 3 2 1 Vai Nina Nina Ah Devi nuotare Porca miseria Ninna Devi nuotare Ninna Sto a me si nuota Non me lo ricordo più Aspetta un attimo Ti è venuta un'altra idea Ok Adesso metti le braccia gentilmente su questa cosa Ninna Ok Benissimo Io adesso ti metto sulle gambe Questo qua Oh Vedi Aspetta un attimo Ok Bravissima Adesso In teoria Se ti lascio Tu non dovresti affondare 3 2 1 Oh Non ci credo Non ci credo Ninna Sta galleggiando in acqua Sì Sì E vai Bene Adesso Ecco Non so più cosa fare in realtà Ho imparato a nuotare Guarda Ok Prova Mi stai muovendo Ninna Ok Falsacchiotti Ce l'abbiamo fatta Il primo passo È stato completato Il prossimo passo È quello di togliere i gonfiabili No 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 Non piaggere Ce la puoi fare Fidati di me Ti tengo la mano Ok Partiamo togliendo Il primo gonfiabile Perfetto Aziona le gambe Bravissima E adesso Io tolgo questo E tu incomincerai a nuotare Vai Ninna Vai 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 Nuota 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 Sì 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 Bravi Ninna Bravissima Ce l'hai fatta Brava Non ci posso credere Guarda Ninna Stai nuotando È andata bene È andata molto bene Che bello Sono troppo felice Ehi Matti Che c'è Facciamo una gara Una gara Sì guarda Mi tolgo anche questo Ti togli anche Stai attenta Ninna Sei sicura di riuscirci Senza la pina da squalo Sì sì Sono pronta Facciamo una gara Chi arriva prima vince Ok va bene Sei pronta alla gara? Sì 3 2 1 Wow Non sapevo di essere anche un dottore di nuoto nella mia vita Arrivo Ho vinto Ho vinto Sarò più bravo a nuotare di te Tu sei proprio scarso Ma quanto sei veloce Dentro la piscina compariranno dei video che sicuramente non avete visto Quindi cliccate su quello che preferite E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao